Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 ho segnalato un incidente tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano in direzione Roma. Ricordiamo inoltre che l'impianto di distribuzione carburante dell'area di servizio di Lucignano in direzione sud è chiuso. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Tavarnelle e Sandonato in direzione Siena. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra Pisa e Dogana Nuova in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Chiudiamo con gli aerei il volo Iberia-Firenze-Madrid delle 11.30, decollerà alle 15.05. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!